Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo insieme tutte le ultime novità. Il 28 ottobre 2010 partirà il Festival del Film di Roma 2010 e c'è già il nome del Presidente di giuria. A presiedere il festival sarà Giuseppe Tornatore. E dopo Mariah Carey tocca un'altra stella della musica internazionale sbarcare nel mondo del cinema. Si tratta di Céline Dion, presente nelle sale cinematografiche americane da metà febbraio con Céline Through the Eyes of the World. Problemi di distribuzione per il nuovo film di Robert Rodriguez, Macete. Dovevano essere sei le case di produzione interessate, tra cui Sony, Warner Bros e Fox. Ma dall'iniziale entusiasmo qualcosa deve essersi rotto. Vi lascio con il trailer di oggi. Eh, sei pronto? Sbrigami, obbligiamo l'aereo! Ciao! Sento che stiamo per iniziare una nuova vita. Benvenuti a Pechino. Una vita che non ha mai voluto. Guarda, Drey, Beverly Hills. Abbiamo sempre sognato di viverci. Sì, ma pensavo parlassimo dell'altra, mamma. Una sfida che non aveva mai immaginato. Voglio andare a casa! Questa è casa. L'unico modo per fermarli è affrontarli. Ti insegnerò io. Forte! Un maestro che non si sarebbe mai aspettato. Appendi la giacca. Levala. Mettila. You ready? Toglila. L'ha già fatto. Ho detto toglila. Colpisci! Più forte! Prendi la giacca! Concentrati! Prossimamente. Decalate, Kid, la leggenda continua. È come in Guerre Stellari. Lei è Yoda e io sono uno genio. È come in Guerre Stellari. Grazie a tutti.